La piazza del popolo si spoglia dai cartelli di lavori in corso, tornando a distanza di 70 giorni il fulcro del centro storico di Pesaro. Dieci settimane di lavori ininterrotti per un costo complessivo di 600.000 euro, in grado di restituire ai cittadini una piazza restaurata, in attesa di diventare anche uno dei palcoscenici di Pesaro, capitale della cultura 2024. Un restyling consegnato domenica pomeriggio attraverso uno spettacolo di luci a disegnare il passato e il futuro della città, a sottolineare l'importanza della storia ma anche le ambizioni per rendere Pesaro sempre più attraente. Così poco tempo è in anticipo rispetto a quelle che sono le previsioni, al cronoprogramma, a quello che avevamo pensato. Oggi restituiamo un salotto, come dicevo, rinnovato, un salotto che si prepara anche al 2024, quindi lo vedremo sempre di più come luogo centrale per gli eventi, eventi culturali, iniziative culturali ma anche popolari. In queste dieci settimane sono state anche l'occasione per riscoprire la storia della nostra città, grazie a un lavoro portato avanti insieme alla sovrintendenza, sotto la direzione scientifica della sovrintendenza, con quindi dei ritrovamenti che ci consentono oggi di scoprire qualcosa di più di Pesaro. Per l'occasione abbiamo pensato a un momento inaugurale con qualche effetto speciale, con qualche effetto speciale, anche questo reso possibile grazie alla disponibilità della ditta, e quindi sarà un momento di festa perché la piazza è il luogo identitario per eccellenza della nostra città e quindi ci sembrava giusto in qualche modo fare, diciamo così, renderle onore. Lo facciamo con questa festa, purtroppo il tempo non è stato dalla nostra fino a qualche giorno fa, però ci siamo. 4000 metri quadrati di superficie rinnovata grazie anche all'importante recupero di San Pietrini riutilizzati. È un grande ringraziamento dunque sia alla direzione lavori, all'architetto Maurizio Severini, al responsabile del procedimento Ugo Baiocchi, alla ditta, a Mariotti Costruzioni, un cantiere dove veramente tutto ha funzionato bene.